cambiando un attimo argomento ti volevo chiedere come ti è venuto insomma l'idea e la voglia di iniziare a fare live su twitch e poi tra l'altro volevo capire anche qual è il tuo pregresso nel senso cosa facevi prima perché qualcuno mi ha detto che c'hai pure eri stato tipo arrestato non lo so sì mi hanno arrestato sei volte sono stato san vittore due volte ho infranto la legge un sacco di volte senza mai fare del male a nessuno e perciò io a il 20 aprile del 2020 sono stato arrestato fatto un mese di arresti domiciliari a casa dei miei genitori lì ho passato un sacco di tempo con mio fratello io ne ho 34 ne faccio 35 dicembre questo mese che ho passato a casa dei miei l'ho passato con mio fratello il più piccolo che ha 20 anni e con lui passavo le serate su twitch a guardare per il motivo per il quale eri stato messo ai domiciliari sempre per possesso di erba pensavo chissà cosa no no niente niente c'avevo dell'erba in casa e questi qua quantità importanti no quantità importanti guarda ti dico era praticamente cbd perciò nel senso alla fine mi hanno durante quell'arresto mi hanno sequestrato 10 mila euro in contanti che mi riche rivedrò tipo l'anno prossimo perché alla fine sono stato prosciolto ok di quelle sei volte che sono stato accusato quattro volte le accuse sono cadute per dirti in questo periodo dovrei prendere 3200 euro che mi hanno sequestrato nel 2015 dove sono stato prosciolto pure lì perciò nel senso sì va bene le sono passate le ho fatte anch'io le mie cazzate per l'amor di dio però adesso la cosa è diversa una piccola critica alle alle sue live alle tue ovviamente in alcuni contesti non è bello l'inveire contro le forze dell'ordine perché va di moda come è successo a colonne a quando quando se ne erano andati dopo che ci fu la sparatoria lì al cane scappate scappano e beh raga io io di mio di io non ho un bel rapporto con le forze dell'ordine cioè nel senso allora partiamo dal presupposto che io i miei primi vent'anni di vita li ho passati di merda perché sono stato quando io quando avevo 15 anni pesavo 140 kg perciò io ogni giorno venivo bullizzato mi pigliavo gli schiaffi i calci e i pugni a scuola ok per sei dato da famosa è una bestia sì sì sai perché mi chiamo ercole l'hai visto l'hai visto il professore matto il film dov'è di marfi è quel professore grossissimo che inventa qualcosa che beve diventa magro è presente la scena quando ci sono tutti 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 eddie marfi che fanno che fa tutti i parenti la zia lo zio la nonna e quell'altro che c'è la scena che che sono lì a cena è presente cioè l'unico che non è di marfi è il ragazzino il ragazzino che mangia come un tritari fiuti rutta e scorreggia come un trattore ok ecco ogni volta che rutta e scorreggia la nonna gli fa o ercolino ha digerito ercolino ha digerito ercolino esatto si chiama ercole quello chiama ercole quel ragazzino quando eravamo al parchetto un giorno mio amico per pigliarmi per il culo mi fa o ma tu sei ercole del professore matto e da lì è rimasto ercole ho semplicemente dato una motivazione diversa per chiamarmi ce n'è più nemmeno cioè il nomercole nasce come una presa per il culo con la k capito no vabbè ai tempi no nel senso la k ce l'ho messa io messa dopo però il mio nome nasce come una presa per il culo però comunque il discorso è forse l'ordine insomma stavo dicendo stavo dissi scusami non allora a me è successo va bene con le svariate volte che mi hanno arrestato e tutto il resto c'è a me è successo di di vedere di vedere proprio poliziotti o carabinieri che mi guardavano col sorriso come per dire sì figlio di puttana adesso te ne vai la san vittore che bella la villeggiatura vero stronzo e poi essere assolto capito c'è gente che mi portava c'è una scena generalizzare anche se magari ha avuto un'esperienza sfortunata con qualche forza dell'ordine però ce ne sono dai anche tanti altri che si fanno veramente il culo sì sì per l'amor di dio sì è vero è vero però credimi sono ricordiamoci anche che insomma prendono anche degli stipendi abbastanza bassi e poi ripeto io pure non so uno che apprezza a prescindere l'uomo in divisa però riconosco che anche loro rischiano la vita ogni giorno per due spicci perché un poliziotto che prenda tipo 1.400 euro al mese che cioè stiamo parlando comunque di uno stipendio relativamente basso in confronto a tanti altri lavori dove stai col culo parato assolutamente quello è vero il fatto è che come si dice se io ho avuto sei esperienze con le forze dell'ordine e quattro sono stato tra virgolette bullizzato dalle forze dell'ordine capisci che il mio pensiero non può essere del tutto positivo no no capisco capisco cioè ho ho un amico di famiglia che adesso va bene non vedo da una palata di tempo che fa il vigile c'è anche un una mia amica che ha fatto le elementari e le medie con me che fa la vigilessa che quando che quando la incontravo quando lavoravo all'amsa che faccio il netturbino che la incontravo all'arco della pace la salutavo mica la insultavo capito non è non è non faccio proprio di tutta l'erba un fascio però tanti poi vabbè guarda dopo che è successa con la storia la con la storia line all'arco del all'arco di porta ticinese cioè nel senso dove il poliziotto dove gli spiegavo dove gli spiegavo guarda che io non ho infranto nessuna legge altrimenti mi avresti messo le manette faccio non sono io quello sbagliato e lui continuava a dirmi sì però non però allontanati da qua sì però allontanati mi dava sempre la stessa risposta perché ogni volta che gli parlavo e gli facevo capire che mi stava dicendo delle cazzate perché non ero io ad aver sbagliato lui l'unica sua risposta era sì però allontanati solo questo mi diceva perciò tante volte le forze dell'ordine è brutto dirlo ma sono non voglio dire dei burattini però sono succubi sono sono comandati da delle forze da delle forze maggiori ovviamente che anche se loro non sono d'accordo comunque fanno quella cosa cioè non non hanno non hanno modo di dire la loro no tu devi fare questo e se se non sei d'accordo sono cazzi tuoi lo fai e basta cioè questa cosa qui è imbarazzante secondo me vabbè io guarda un po come i mod di questo canale dice qualcuno in chat mi scusi extreme lei come osa dire certe cose sta dicendo che io sono i poteri forti ma no ma allora tu non mi sembri un dittatore o uno che che tratta che tratta male i propri moderatori nel senso però cioè secondo me boh vabbè poi io non lo so non posso sapere ci va ma lo faccio sempre in goliardia poi scrivo in privato che gli voglio bene comunque la tua risata devo dire è molto contagiosa mi fa ridere la tua risata grazie mille un sacco di gente mi ha detto che ho la risata finta mi sono messo a ridere no è tipo quella risata da da dottor jekyll e misserite tipo da pazzo però un pazzo sì ho 4 o 5 tonalità diverse di solito dipende dalla situazione c'è anche la risata silenziosa direttore se non devo fare burdello comunque facciamo questo giochino adesso ti condividerò lo schermo e ti chiederò di darmi un giudizio su alcuni nostri colleghi streamer